Ciao a tutti amici, Marco's Box, ben ritrovati con il consuleto appuntamento settimanale delle quattro chiacchiere all'interno del mondo open source. In questo riassunto della settimana andremo a vedere alcuni articoli interessanti, alcuni molto interessanti che purtroppo non hanno avuto il giusto risalto in termini di visite e di condivisione, questo mi dispiace un po'. Cominciamo proprio con l'articolo al quale mi riferisco quando parlo di ciò. Stefano ha pubblicato un interessante editoriale dove analizza l'utilizzo dei dati aperti in modo in cui vengono riutilizzati i dati aperti e tutto quello che ruota attorno ai dati aperti. Ha fatto un interessante post, un interessante editoriale, andatelo a leggere, vi invito a leggerlo anche perché nei prossimi giorni Stefano pubblicherà la seconda parte che è collegata con questo post. Allegato poi all'editoriale c'è un interessante video, video di Tim Berners, una conferenza che ha tenuto per conto di TED. Leggetelo, vedete questo video perché è molto interessante. Notizione della settimana è stata l'arrivo in Italia dell'Alcate One Touch Fire con Firefox OS. 79,90 il prezzo di lancio. Ho fatto anche un video all'interno della settimana dove annunciavo l'arrivo di questo smartphone. Purtroppo, devo sottolineare, sono già arrivate le prime video recensioni da parte di alcuni blogger famosi che trattano appunto del mondo della telefonia. E in queste video recensioni si vedono molto i limiti di questo nuovo smartphone, di questo nuovo device. Imputabili al sistema operativo, imputabili al tipo di smartphone su cui sono state montate. Le opinioni sono discordanti. Io penso un po' a tutte e due. E' normale che il sistema operativo è giovane, quindi abbia bisogno di migliorare, di migliorarsi, quindi per raggiungere il livello di maturità che hanno gli altri sistemi operativi per smartphone che attualmente vediamo in commercio. Basta pensare soltanto al fatto che Windows Phone 8, nonostante sia riuscito da parecchio, nonostante abbia risparmi a Microsoft, ha ancora alcuni punti che vengono criticati soprattutto dagli utenti Android. Anche se in questo caso, secondo me, si tratta soltanto di fanboy come al solito, le solite guerre tra utilizzatori di sistemi operativi per smartphone che delle volte scadono nel ridicolo perché non si rendono conto che è inutile fare il fanboy per qualsiasi cosa. Vabbè, comunque, detto questo, comunque, sono stati pubblicati questi due video. Vi ero legati a modi commenti nella discussione collegata, quindi andatevi a vedere queste video recensioni e giudicate voi. Pubblicato poi in settimana sul suggerimento di Stefano, che rinca e non si mette a scrivere post, andrà già a voi, è un interessante sito che si chiama Explain in Shell. Voi spesso vi imbattete in comandi che non conoscete, sintassi che ignorate. Potreste utilizzare a mano e andatevi a vedere i singoli comandi. Ma perché fare una cosa così noiosa? Perché poi andatevi a vedere così e buttare via. Questo sito non fa altro che dare la spiegazione di questi comandi e lo fa in una maniera grafica accattivante. mettete la sintassi del comando che volete essere spiegati e vi ottenete, praticamente, tutta quanto la spiegazione è bella con tutti quanti il grafico tutto colorato. È molto sfiziosa come cosa. Segnate, lo mettete tra i preferiti. Notiziona della settimana, che questa è veramente una notiziona, anche se, alla fine, tutti quanti un po' ce l'aspettavamo una mossa del genere. Valve entra nella Linux Foundation. L'annuncio è stato dato in settimana. Finalmente, Valve scende in campo, scende in campo in maniera decisa. Di sicuro, la sua entrata nella Linux Foundation servirà ad aiutare il mondo Linux per quanto riguarda la disponibilità di driver. Sono proprio le stesse parole di Valve che intende, diciamo così, quasi obbligare i produttori di hardware a dare priorità a Linux. Questo perché lo sapete? Perché Valve ha intenzione di commercializzare entro il nuovo anno, all'inizio del nuovo anno, la sua Steam Box con SteamOS, un sistema operativo Linux che è appunto dedicato al gaming. Quindi ha bisogno di supporto hardware, di driver di alta qualità. Speriamo soltanto che non si concretizzino le solite profezie degli stalmaniani che, come dice la prefazione del libro di Richard Stallman, temo gli achei anche se portano doni. O gli orari greci. Vabbè, temo i greci anche se portano doni. Scusate la traduzione errada. Vedremo, vedremo come si evolverà la situazione. Anche, io poi sono curioso di vedere questo SteamOS. Rilascio della settimana come release di distribuzioni è stato Netrunner 13.12 RC. Netrunner la conoscerete. Tempo fa ho fatto anche un posto con approfondimento su questa distro. Che cos'è? È una derivata di Kubuntu che è supportata dallo stesso sponsor di Kubuntu. Molta della gente che collabora che lavora in Kubuntu lavora anche per Netrunner quindi lavora anche per la ditta che sponsorizza questa distribuzione. Rispetto a Kubuntu che cos'ha? Software aggiuntivo, alcune chicche, alcune modificazioni a livello estetico, molte, anzi, modificazioni a livello estetico, a livello funzionale. Basta pensare al pennello di controllo che è stato razionalizzato in una maniera intelligente. La presenza dei web accounts e alcune chicche che poi sono sicuro che a breve vedremo anche su Kubuntu o quantomeno in altre distribuzioni. L'ultima in ordine di tempo è la presenza del nuovo menu kicker che è praticamente, che cos'è? È una variante di home run, non so se ve lo ricordate, quel menu a tutto schermo, che è più piccola, a mo' di pannellino piccolino quando lo andate a lanciare, bello, graficamente gradevole, funzionale e veloce. Speriamo che si evolva, che lo vedremo, speriamo di poterlo installare anche su molte altre distribuzioni che venga effettuato il porting, perché è interessante, come dire. Poi c'è stata la nuova Task Manager con icone espantibili, però questa è una cosa un pochettino così, e il mouse sweepes, praticamente una funzionalità che potete richiamare facendo sweep con mouse, così tenendo premuto il tasto, per richiamare un altro pannello laterale. Funzionalità carine, che poi in questa distro molti utenti l'hanno provata e ne sono rimasti entusiasti, perché sembra una distro che non ha nulla da aggiungere, quindi resta grade elaborante. Posto della discordia della settimana, Fedora 20, rimandata il 17 dicembre, quindi ulteriore risultamento nel rilascio di Fedora 20. Non voglio alimentare polemiche ulteriori, ci tengo a precisarlo. Però, andatevi a leggere i commenti che sono stati pubblicati sotto a quel post per via di un'immagine scherzosa che era stata pubblicata. Dico io, immagini scherzose e gogose sono state pubblicate in quantità industriali nei confronti di Ubuntu, Derivate, Marchat, Airware, chi ne ha più ne metta, della Microsoft, di Google, della Microsoft è stato stroppiato in una maniera assurda in tutte le salse. Poi c'è qualcuno che a cui non piace un picco un picco luogo scherzoso che è stato fatto nei confronti di Fedora vabbè, andatevi a leggere i commenti. Si commentano da soli. inutile comunque di orientare altri problemi perché tanto mi è scesa la catena diciamo così. Spero che si dica così poi non so, voi del nord come dite io qui al sud direi anche peggio. Un omaggio è stato fatto alla scomparsa di Nelson Mandela che il 5 dicembre è venuto a mancare. Un grande, un grande non c'è altro da dire. Rilasciata KDE 4.doggi RC per Qbuntu tramite il solito PPA beta è possibile installare. Io lo sto installando stamattina perché ho piegato Fedora e sono ritornato a Qbuntu così mi godo un po' di serenità e mi godo anche il nuovo aggiornamento di questo nuovo aggiornamento. Vi farò sapere poi in qualche post cosa ne penso di questa nuova versione in sviluppo. È molto carina comunque perché promette velocità diciamo così. Altro post della settimana è stata la comunicazione l'annuncio la parte del progetto Libre Umbria secondo i quali praticamente l'azienda ASL Umbria 1 una azienda sanitaria grande che comprende i territori del Perugino Assisano Casimino Media Alta Valle del Tevere Alto Chiasco e Altro Tevere praticamente è stata la prima fase della migrazione che ha consentito di passare 300 postazioni lavorative al Libre Office bene così ragazzi stavo vedendo che il progetto Libre Umbria sta facendo le cose come si deve entro pochi mesi verrà completato il processo di migrazione quindi dell'intero parco macchine del territorio cosa molto interessante che sottolineo sempre l'importanza del progetto Libre Umbria che si discosta un po' dagli altri è che accanto al processo di migrazione viene effettuata vengono effettuati dei corsi di formazione per il personale della pubblica amministrazione quindi il personale viene guidato non è che gli spiazzano così Libre Office utilizzano apposto di Microsoft Office no vengono guidati vengono aiutati per migliorare per capire il nuovo non lo so casomai ci fosse qualcosa da capire ma è anche un'occasione utile per poter fare dei corsi di aggiornamento che si sa nella pubblica amministrazione non è che vengono così tanto fatti di solito si legge la circolarina e basta passa così ultima notizia della settimana è stato un ulteriore rilascio svrittamento del rilascio di Tanglu Tanglu una derivata di Debian che ha entusiasmato molti utenti di Debian anzi sta entusiasmando anche me speriamo di poterci mettere le mani subito a gennaio verrà rilasciata non vedo l'ora di provarla o meno così a gennaio si spera visto che potrebbe subire ulteriori dati non si sa mai Tanglu verrà ribattizzata in questo caso con il numero di versione 1.01 0.01 sta per il mese il team ha comunque fatto sapere che sono già iniziati i lavori di selezione per il nuovo nome della prossima versione che inizierà con la B quindi Tanglu ho intenzione di fare A, B, C vi ricorda qualcuno e quindi vediamo vediamo come vediamo questa distro speriamo che se sono cose frioriranno se sono schifezze schifezzeranno come dicebbe qualcuno visto considerato che ho avuto anche commenti negativi riguardo a questo perché alcuni pensano che sia una pessima idea una distribuzione generata di questo tipo comunque vedremo vediamo come si comporterà vediamo il sistema di gestione degli aggiornamenti non so se avete letto il mio precedente post su Tanglu dove viene spiegato come è gestita un po' la distro bene con questo concluso un saluto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo con il prossimo video la prossima settimana ciao ciao ciao